Se io sono libero? Sì, sono libero di agire come un virus che grazie al ciclo X immagina il mondo reale con le dimensioni della nostra realtà, tempo, spazio, eccetera, e lo interpreta liberamente, ma nella sola libertà che ha un attore, che mette in atto, e non di un creatore che crei la storia.